Una donna di 94 anni, il figlio di 64, sono stati trovati morti nella loro abitazione alla periferia di Roma. Il rinvenimento è avvenuto nella zona di Torpignatara. Dare l'allarme sono stati alcuni vicini che non vedevano i due dal giorno di Natale. Secondo le prime informazioni sembra che né la madre né il figlio presentino segni evidenti di violenze che la porta d'ingresso fosse regolarmente chiusa dall'interno. Madre e figlio sarebbero morti ormai da diversi giorni.